Buongiorno, sono uno degli amministratori dei gruppi idonei dell'ordinario 2020 dello STEM 2022. Il nostro problema riguarda la durata delle gradatorie di merito dei concorsi ordinarie dello STEM 2022. Attualmente tutti gli idonei sono stati integrati in gradatoria nella primavera del 2022. Gli STEM 2021 a febbraio, poi infanzia e premarchia da paile e infine ordinarie secondarie 2020 e STEM 2022 il 29 giugno. Quindi la due art delle gradatorie è biennale attualmente, perché si basa sul decreto 59 del 2017. Anche se la gradatoria è unica, i vincitori hanno sempre diritto all'assunzione, invece gli idonei hanno la scadenza biennale delle gradatorie che si basa appunto sul decreto del 2017. Gli idonei del concorso 2016 sono stati integrati alle gradatorie di merito del concorso del 2018, che sono esaurimento, quindi saranno praticamente assunti tutti in base ai posti disponibili. Invece, sì appunto, le gradatorie di merito del concorso 2018 sono esaurimento e quindi il problema rimane appunto per le idonei del concorso 2020 e per lo STEM 2022. Noi chiediamo che le gradatorie vengano utilizzate a scorchimento fino all'esaurimento e quindi che tutti gli idonei saranno assunti in base ai posti disponibili fino al termine delle gradatorie. Questo è il nostro obiettivo ultimo, ottenere la stabilizzazione di tutti gli idonei del concorso ordinario 2020, secondaria, infanzia e primaria e STEM 2022. 2